E poi chi c'ha? Oh, ci sta sempre, c'è l'azzo, c'è l'ambulanza te, c'è l'azzo, poi se non gli basta l'ambulanza c'ha sempre l'azzo nella manica, si sta giocando, non l'ha capito? Vabbè, l'importante è che è te, l'ha capita quello che ha detto? Io ho capito, lui era lo stesso, allora ci vediamo domani. Hai capito? Per la dire le faldoze, per la dire la ponte. Bella Carlo, grande, grande, grande. Di meglio della prima, il meglio. Perrego sta preoccupato, questa notte gli spara le ponte, se tu sei la ragazza che non la provo. Italia Unghie. Oh, mi raccomando, domani ne svegliate.